Proseguiamo con la serie dedicata alle fake news relative al caso di Ustica. In particolare oggi tratteremo l'argomento del serbatoio, argomento che è stato già trattato da un altro canale YouTube, il quale sostiene che il 19 sia stato abbattuto da un serbatoio sganciato in volo da un aereo, da un caccia. Il serbatoio è arrivato a colpire il 19 creandone l'abbattimento, provocandone l'abbattimento. Lasciamo qualche secondo per fare una risata e passiamo invece a qualcosa di un po' più serio, anzi decisamente più serio perché qui entriamo nel vivo anche dei pistaggi e della disinformazione. Facciamo un passo e vediamo intanto il relitto, i resti del serbatoio che era stato recuperato vicino al 19. Ma sentiamo quello che ci racconta il generale Tricarico, intervistato da Telese, il quale Telese adesso attenzione a quello che dice, fate molta attenzione. C'era la porta aerei francese nel Tirreno, lei lo sa sicuramente che è stato trovato proprio a fianco a quei relitti un serbatoio di un caccia sganciato di produzione americana. Lo sa che la società produttrice ha detto che non possiamo fornirvi qual è l'aereo, però sono codici che si possono costruire. Non le sembra strano che ci fosse il serbatoio di un caccia? Allora fermiamo qua, andiamo a rivederci i nostri aeroplani e cominciamo a commentare quello che ha detto il giornalista. Lui parla di caccia e dice che non si può rintracciare il serbatoio. Adesso sto andando a memoria, non ho nessun appunto. Comunque, in realtà tutta la storia del serbatoio è scritta in cinque pagine dell'ordinanza sentenza del giudice priore che è apparso in quel momento, per un attimo l'abbiamo visto. Allora, cosa possiamo dire? Intanto l'aereo che può portare questo genere di serbatoio, adesso li stiamo vedendo che passano, è questo, che è l'A7, è il Viking S3A della Lockheed, poi c'è l'A4 Skyhawk della McDonnell Douglas e infine c'è l'A6 della Grumman, l'Intruder, e poi c'è l'A6B che è sempre la versione quadriposto, ma è sempre la stessa linea dell'A6. Cosa possiamo raccontare di questa situazione? Intanto che si sa il nome della casa costruttrice, si sa il modello, si sa quanto portava, si sa dove è stato trovato. Il serbatoio è stato trovato nella zona cosiddetta nella zona di ricerca, nella zona D. Il ritrovamento è stato fortuito perché si cercava in quella zona altri pezzi del relitto del XIX. Questo secondo la teoria che aveva postulato Frank Taylor dopo l'abbattimento sui cieli della Scozia del Bengi 747, il Panam, che cadde, anziché cadere in mare, cadde sulla terraferma. Frank Taylor da questo incidente riuscì a ricavare una formula fisica e matematica per definire la traiettoria degli oggetti di un aeroplano che si è distrutturato in volo. Quindi sono andati a fare delle ricerche in questa zona denominata zona D e hanno trovato questo serbatoio, un serbatoio che adesso andiamo a riprendere. Un attimo solo perché io sto facendo le cose a livello veramente empirico. E comunque sopportiamo intanto qui, vediamo che se fate un fermo immagine riuscite anche a leggere tutto, mentre intanto io vado avanti a parlare. E niente, quindi cosa succede? Succede che quello che viene detto nella trasmissione televisiva e il giornalista è molto, molto aggressivo. Io non ho fatto vedere tutto questo video, ma lo commento con un altro video perché effettivamente è abbastanza di parte, fazioso e vuole mettere in colpare l'insistenza del giornalista, è veramente vergognoso. Devo dire, vergognoso perché non è, come dice lo stesso generale Tricarico, non è più un'intervista, ma diventa un volerti far dire quello che io voglio che tu dica. Questo è l'insenso di quell'intervista. Tricarico lui spiega nell'intervista quello che è la verità in effetti e adesso torniamo su questa immagine, eccoci qua, e vediamo i rottami di quel serbatoio che tra parentesi è stato depositato nello stesso hangar dove c'erano i pezzi del 19. E questo, una persona che arriva e faccia che si è portato a dire ma coi pezzi del 19 c'erano anche i pezzi di un serbatoio. Da qui qualche giornalista che non ha molta, hanno molta fantasia i giornalisti, questo devo dire, cosa vede? Vede i pezzi del 19, vede i pezzi del serbatoio e fa un banalissimo collegamento. L'hanno trovato insieme i pezzi del 19, quindi questa diventa fondamentale per qualcuno che vuole sostenere la teoria che il 19 è stato abbattuto da un serbatoio volante. Allora, detto questo, soltanto un idiota ci crede, perché dobbiamo immaginare come può essere sganciato e andare a colpire di precisione il 19 nella parte anteriore, perché pure nel video che ho menzionato all'inizio parlano di parte anteriore dove è addirittura che ha trapassato la fusoliera. Ora, una precisione del genere io l'ho vista soltanto in un'occasione nel film di Guerre Stellari, quando Luke Skywalker c'entra con due siduri spaziali, chiamateli come volete, c'entra quella piccola presa d'aria che andava direttamente al cuore del sistema della Delta. quindi stiamo andando nella pura fantascienza. La balla del serbatoio che abbatte il 19, questa è normale che si capisca, ma la balla che non si sappia di questo serbatoio perché non viene detto è completamente falsa perché ci sono cinque pagine nell'ordinanza sentenza dei giudici priore dove c'è scritto tutto, pure ci potrebbero avere anche messo il numero di scarpa del proprietario della ditta che produce. Questa è una battuta, ma troviamo le posizioni, le coordinate, gli aeroplani che lo potevano portare. c'è addirittura un elenco degli aerei caduti nel 1980 proprio per andare a eliminare tutto e questo serbatoio era parte di un aeroplano che l'ha sganciato, ora si può ipotizzare che l'abbia sganciato a bassa quota piuttosto che a alta quota, però questo non ci interessa. Sappiamo la conclusione, signori, quando vi dicono del serbatoio, ditegli in chiaro e tondo che non c'entra il tubo col 19. Vi ringrazio come sempre e ci vediamo col prossimo video dedicato alla fake news. Fii. Fii. Fii.